Giulia Delellis al Festival di Venezia La ragazza ha partecipato al festival come testimonial dei brand Blu Marine e Smashbox Cosmetics. I suoi look non sono passati inosservati durante il Red Carpet ricevendo molti complimenti sui social riguardo alla sua eleganza. E anche se le critiche sul suo passaggio in Laguna non si sono fatte attendere, la Delellis, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, spiega meglio com'è stata la sua prima alla mostra del cinema, ma soprattutto svela qualche dettaglio riguardo ai look che sono stati molto a Aprezzati dai fan e non solo. Giulia Delellis sui look al Festival di Venezia una persona speciale ha detto sei stata le tue due anime e forse ha indovinato esattamente così. Me. Per il mio primo Festival di Venezia ho deciso di rappresentare me stessa ha scritto la Delellis sul social network raccogliendo alcune delle foto scattate durante il Red Carpet del Festival di Venezia. Una persona speciale ha detto sei stata le tue due anime e forse ha indovinato svela l'ex corteggiatrice di uomini e donne. Il mio primo look rappresentava in pieno una parte di me che pochi sanno, questa invece la conoscete bene e spiega meglio l'esperta di tendenze ai suoi numerosi sostenitori. Giulia si dice felice di tutto questo e si lancia in una serie di ringraziamenti social. Grazie Venezia è stato splendido, chiude.Giulia Delellis e quel complimento di Andrea Damante al Festival di Venezia anche Andrea Damante ha apprezzato il look dell'ex fidanzata. Il DJ di Verona ha rivelato che Giulia è stata la più bella, quella in grado di catalizzare l'attenzione sul Red Carpet. Il complimento è arrivato fino alla Delellis che ha ringraziato il ragazzo che un tempo le faceva battere forte il cuore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.